Salve a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video. Signori, oggi siamo qui con il showcase del team leggendario. Roger, Barba Bianca, eccoli qua signori, eccoli qua, signori, eccoli qua, eccoli qua. E signori, io direi che possiamo partire, partiamo, partiamo, partiamo boys, partiamo. Primo match con il Goat team, raga, primo match con il Goat team. Vediamo un po', vediamo, vediamo un po', vediamo un po'. Cosa ci riserva? Eh, raga, questo qua è il team migliore del gioco? Forse sì, ma forse anche no, perché forse con il miglior team del gioco è un'altra idea. Però, ovviamente questo qua è assolutamente uno dei migliori, assolutamente uno dei migliori. Comunque, comunque, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo, iniziamo, raga, iniziamo. Allora, faccio così, io mi ci butto, io mi ci butto, mi ci butto, raga, mi ci butto. Allora, ok. Bravo, Kaido, bravo, sei stato intelligente. Tanto adesso la catturiamo, la flag. Mamma mia, mamma mia, Roger. Mamma mia, Roger. Mamma mia, Roger. Pazzo, Roger. Pazzo. Pazzo, Roger. Pazzo, Roger, raga. No, guarda, se perdo sta partita veramente mi arrabbio. Veramente mi arrabbio, raga. Veramente mi arrabbio, raga. Ma cosa stanno facendo i miei compagni? No, guarda, se perdo. Quasi 10k 11k di scorra 11k di scorra E diciamo che la seconda Iniziamo con Barba Bianca Perché si inizia con Roger E poi mi vengono a dire Che Roger non è un runner Non è un PG chissà che cosa Ma faremo un video specifico Su questa cosa raga Perché non sono assolutamente d'accordo Ma via con il secondo match Per questa seconda partita Iniziamo con il Goat Barba Bianca Perché dopo la partita Perché dopo la partita Che ha fatto Roger Mamma mia che partitona Che partitona raga Che partitona assurda Partitona allucinante quella Veramente partitona Allucinante Allucinante raga Allucinante Ok Allora Sono Defender Quindi io vi metto la guardia Della mia prima e seconda bandiera Tanto con quei due rogers Quella terza sarà sempre combattuta Intanto Intanto Provo a pararmi le mie E dopo si vedrà Insomma Ok vabbè Prevedibile Prevedibile Non mi aspettavo altrimenti Però Ora che ha preso Quella là Lancio la seconda skill Intanto per fare da scudo Quella flag la Benissimo Ok No ma perché Mi hai lasciato da solo Ma perché Ha sbagliato Doveva sopportarmi Doveva sopportarmi Vabbè Questa qua è skill Invincibile Quindi non mi prendo lo stun Eh Qua ti è sciotta Ma è normale Eh Mi avrebbe dovuto aiutarmi Quelli che sei amato Vabbè Quindi Tocca Ribaltare tutto Con il nostro rogerino Porta pazienza Porta pazienza Un attimo Newgate Porta pazienza Un attimo Vabbè Ah non è scoppiato Non è scoppiato Sto manedetto Mamma mia Eh Mamma mia Non scoppia Oh Questo roger qua È tosto Eh Grande Luffy Non so se Evitarmi di Luffy No Ma perché Te ne sei andato Ma perché Ma perché Te ne sei Ma perché Se ne è andato What you see Eh Sei tu il defender Dovresti tu guardartela Pensavo Vabbè Ok Come non detto Possiamo ancora Rimentarla Se facciamo i bravi Se facciamo i bravi Possiamo ancora Rimontarla Miseria 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 Dai 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 Provevo a fare Workare un po' Sto barba bianca E non lasciare Tutta la Figura A Roger Bene 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 ok luffy gear 5 vai pure avanti che non c'è problema vai pure avanti la terza chi se la contende ce la sono contesa loro va bene va bene ma pensa un po pensa un po no vabbè allora luffy lo lascio a roger perché altro di più probabilità l'ha presa l'ha presa va bene va bene caido l'hai presa ma sinceramente non mi fai paura ok forse dovrebbe farmelo un pochino ok grande luffy grande luffy va bene luffy mamma mia come ci ha provato come ci ha provato quel roger minchia qua sono da solo però minchia se difendi new gate mamma mia minchia se ha difeso bene barba bianca però eh ha difeso veramente bene eh veramente ha difeso benissimo eh ma adesso adesso faccio io il rompi rompi ma vado io al loro ma vado io alle loro ai loro spawn certo che quella back maria proprio a me non piace per nulla però vabbè non piace proprio per nulla maledetti maledetti minchia minchia vabbè vabbè gg 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 bella partita bellissima partita eh signori il il got team non scherza non scherza come vedete nonostante tutti quei roger tutti quei runner per quasi due minuti costanti siamo riusciti a difendere la bandiera ci sta che poi barba bianca si è crollato ci sta ci sta perché insomma dopo tutto quel pressing ci sta che anche lui crolli però raga come vedete ha retto benissimo signori che dire io spero che questo video vi sia piaciuto vi invito a lasciare un like iscrivervi al canale attivare la campanella delle notifiche scrivetemi sotto voi nei commenti cosa ne pensate del got duo e niente noi ci vediamo alla prossima e ciao raga